Chi semina legalità raccoglie giustizia anche attraverso lo sport. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Dopo la straordinaria adesione di cittadini alla serata inaugurale al Teatro Cristallo di Bolzano del convegno Chi semina legalità raccoglie giustizia l'importanza di educare, il Centro per la Pace e l'Associazione Libera hanno organizzato delle tavole rotonde nella sala della scuola professionale di Via Santa Geltrude. Ad aprire i lavori l'assessore provinciale Barbara Repetto e l'assessore comunale Luigi Gallo. Poi hanno preso la parola Don Antonio Dell'Oglio, responsabile internazionale di Libra, e Cuno Tarfuser, giudice alla corte penale dell'AIA, il quale ha bocciato l'idea che ciclicamente viene rilanciata di aprire una casa da gioco a Merano. Sono proprio ambienti come i casino, ha spiegato Tarfuser, che diventano allettanti per la criminalità organizzata o per le infiltrazioni mafiose. Collegata in videoconferenza, al convegno è intervenuta la giornalista tedesca Petra Reschi, corrispondente di The Zeit e autrice del libro Santa Mafia. Il mio libro ha denunciato la Reschi e è stato censurato, ancora non riesco a spiegarmi come ciò sia stato possibile in un grande paese come la Germania. Particolarmente interessante è la testimonianza di Rashid Berradi, di nazionalità marocchina, diventato olimpionico azzurro a Sydney, comprimato nazionale di maratona e ora collaboratore di Libra a Palermo. Lo scopo della sua attività è cercare di recuperare i giovani dei quartieri difficili attraverso l'atletica. La mia attività consiste semplicemente di raccontare il mio percorso di vita, che è quello di essere partito da Palermo, in un quartiere difficile dove sono cresciuto, ed arrivare all'Olimpiadi. Quindi raccontare questo percorso di vita ai giovani di oggi, con la speranza di cercarli di avvicinare al mondo dello sport e allontanarli dai fenomeni che conosciamo molto bene e che sono presenti sul nostro territorio. Lo sport è uno strumento molto efficace perché comprende le diverse tematiche dell'educazione, che può essere la legalità, l'integrazione, il confrontarsi, il rispetto dell'altro, il rispetto dell'avversario. Quindi i valori dello sport cerchiamo di utilizzare anche nella vita normale. Quindi in questo mio progetto il mio obiettivo non è quello di cercare di trovare compioni che di fatto possono eseguire il mio percorso, se vuole arrivare all'Olimpiadi, ma di fatto cercare ragazzi che possono vincere una vittoria o una medaglia più bella che colla dalla vita. Quindi io ci provo.